Salve a tutti ragazzi e ben tornati da McShowsha Oggi sono in compagnia dalla mia ragazza Ambra Ciao E siamo pronti per la Blind Ball Challenge La sfida a bendati Ambra, in che consiste questa sfida? Dillo te perché... Perché non lo so Allora, adesso venderemo Mike Cioè, presenteremo 5 cibi Dovrai indovinare di che cibo si tratta Potrai annusarlo Poi toccarlo E alla fine mangiarlo Vabbè, annusare e toccare ragazzi Non mangiare, anche perché Ambra ragazzi È una ragazza che mangia cose un po' strane Tipo le cavallette, i lombrini E queste cose così E io sinceramente abbiamo dei gusti un po' diversi Quindi adesso ragazzi io ve l'ho vendato 5 cibi misteriosi verranno presentati da Ambra Se indovinerò io un punto a me Se sbaglierò, ma cosa impossibile perché Oddio Facciamo la prova Quante sono queste? Eh, non vedo Dai, spara Ti sento ma non ti vedo Dai, spara Sei? No, ho solo una mano Quante dita sono queste? Tre Eh, allora ce l'ho No, sono troppo pro Non ci vedo, te lo giro Non parlo? No, non parlo Aspetta, da che vai partita? Una cosa semplice che ti piace O una cosa schifosa? Guarda, siccome stiamo a casa tua Cioè, non credo che ci sia roba semplice Allora, partiamo da una cosa semplice Oh, oh, non mi colpino Dai, questo è semplice Ok Ragazzi, lancia Ma questo è troppo semplice C'è un po' una strizzetta Ma me l'hai messa sottornato già? Sì È troppo semplice Non lo so, è tipo di salamella E quindi? Non lo so, ho misto dei sapori, tipo No, salame, che sarà? È che salame è? È che salame è? Ma che ne sai che salame è? Non lo so, il salame Vabbè, sì, bravo Era salame, era salame Era un salame ungherese, però Vabbè, ora mi chiedo in passaporto Che ne so se è ungherese 1-0, ragazzi 1-0 Ok, eh Vai Sei pronto? Sì Te la faccio non lo so Non sento niente Oh, che cacchio è? Perché mi hai toccato? Eh, perché non sentivi Dai, che cos'è? Eh, non lo so, fammelo sentire Non lo so, salivo del lattosio Dai, che cos'è? Non lo so, mi ricorda... Posso toccare? Sì No, prima dimmi che cos'è Dai, prima... Eh, no, eh, se ti voglio provare Senti, su, senti bene Che cacchio fai come devi toccare? Ok, c'è paura Sì, mi sono benedato Sì, mi sono benedato Il cibo Dai Ve lo toccare? Eh, sono io! C'è paura! Il capello Ah, ok Fermo, sono io Non lo so, ti... Che è? Tipo panna? Eh, sì! Davvero? Ma ma troppo facile, mia Amenti al livello Amenti al livello 2 a 0, ragazzi 2 a 0 Sì, a mano Non voglio... Non voglio fa sta sfida A casa di Ambra Per capra c'ha tutti i cibi strani E che la panna è un cibo strano? Mi ha capito A me la panna non mi piace Questa è un po' difficile Ecco Considerando sempre il fatto Che io non assaggerò Assolutamente nulla Da nel piatto, eh Un bicicletto Già sta, ma sotto Ma io non sento niente Oh, è troppo a distanza Eh, diciamo Non puoi toccare Stavanti una volta Ma ce l'ho sotto? Sì Ma a me... Però scusa Ma io non so Cioè, a me io risento Cioè, sembra... Fammi sentire Dai, questo lo conosci Non lo so se... Ti senti che scampetta Ma io non sento Ti giuro, io non sento niente Posso toccare Perché veramente Io non sento Vai Eh, forse l'hai riconosciuto È una melanzana per caso Sì In teoria Ora hai già finito qua La prima impulciata Hai già finito Sì, ma questo Questo, guarda Sono un bonus Hai da un bonus Ma che te frega Sì Ok Oh, sento rumori Ma ce l'ho sotto? Sì Mmm Bleh Tipo succo di frutta All'albicocca Qualcosa? No Davvero? No, non è succo di frutta Qualcosa pesca All'albicocca Qualcchi... Eh, che cos'è? È un succo Un succo Sì, un succo Un marmellata È una marmellata Sì Davvero? Allora, mamma, però ragazzi Spiegami una cosa Senti, senti Cambio cibo È che te l'ho detto Vedrai tutti Tocco pure le vado Mentre le vado No, no Voglio parlare così Mi sento tipo ciclovo di un X-Man Sì, infatti Ragazzi, poi spieghiamo questa cosa Chi deficia in uno dei cinque sensi Acquista negli altri Eh, non sapevo che tu ho... Eh, io non sentendoci, ragazzi Non sentendoci Almeno c'è C'è il naso da secuggio Giusto? Stai qua, sì? Sì, perché te vedo Ma dove va? Allora, ecco Chiedo l'aiuto del pubblico Ma che è un copertone bruciato? Sarecao ciò è andato a male? Che è? Dai, che lo conosci? No, ti conosce? Non lo so Perché sta? Beh, posso toccare? Ti ricordo, non dovrei partire No Dai! Perché sta? No, posso toccare? Sì Ma non è che fa schifo, no? No Ma che è Jake? No Dai qua È il casino di Jake Guarda Puzzata Puzzata di copertone bruciato Ma che è? Come? La mia alzana non va Allora, ragazzi Ultimo Giusto per dare la soddisfazione ambra Di riuscire a trovare un altro importante Però c'è da dire che questo non era un cibo E' andata al supermercato Sì Stomattina sono andata a fare la spesa apposta Sì Fai di vedere Ok Vado, eh Sei pronto? Sì Eh, uco Metti il giuro Eh Non me lo metti in faccia, eh Te lo dico subito Ce l'ho sotto il naso già? No, però no Eh, la la sta mano Mi po' E c'ho paura che tu mi potresti mettere Ma non me lo metto in faccia Ma che è? Senza sempre l'odore del lattosio Non so perché C'è, c'è del lattosio lì No, non c'è Mi piace, eh No, mi hai toccato Valenzione Ma chi ti ha toccato? Ma chi ti ha toccato? Ma hai toccato il labbro? Non lo so, che è il cioccolato? Qualcosa cioccolato? No C'è del latte però No Simi il cioccolato Posso toccare? No No, perché il tipo sta messo dentro un cucchiaio Ma no, sta dentro un piatto Fammi toccarlo Non mi fa toccarlo Un dito Un dito solo È questo? Sì Ma che schifo è? È una cosa che te mangi solitamente, eh Menomale che non so Gianni Morandi Che è? Nutella? Col dito che la mangi No, che schifo Che paura Non lo so, è il formaggio? No Dai, simi il formaggio È la panna cotta? No È che la panna cotta è così È la panna cotta? No, non è la panna cotta È la panna cotta al cioccolato È la panna cotta al cioccolato? È la panna cotta al cioccolato? Sì, è la panna cotta Oh, ma la panna cotta è un po' E vai, ciò, ciò vince ragazzi Beh, adesso guarda L'ho zeccato tutti L'ho zeccato Posso? Sì, certo Ma quando va la cotta? Ma che schifo? È il vento di pollo Hai penso Hai penso Hai penso Nei commenti ragazzi Suggeriteci altre sfide Altre challenge A 3000 mi piace Faremo la Blindful challenge ad Ambra Quindi non li mettete Quindi mettete Ragazzi sarò io per andare a Ambra Quindi ragazzi 3.000 mi piace Blindful challenge ad Ambra Niente Lasciate tanti commenti Lasciate tanti mi piace Vi ricordo gli appuntamenti Che? Lo stipendio Vi ricordo gli appuntamenti 13 novembre Iniziamo a Sassi di Unity 18 novembre Iniziamo anche Far Cry 4 Quindi ragazzi Buon saluto a tutti Alla prossima Ciao ragazzi Ciao 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 Il bollo Ma la bollo Il passerò Ma tutti quanti amano Mike Scioscia Tutti quanti amano Mike Scioscia